Good morning Milano! Good morning a tutti! Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a voi che siete a casa in questo momento e buongiorno a chi è nel traffico già che sta affrontando questa mattinata. Oggi è martedì 20 febbraio, sono le 7.05, state ascoltando Crystal Radio, nella fattispecie state ascoltando Good Morning Milano. Io sono Fabio Ranfi, al microfono come sempre tutte le mattine dalle 7 alle 9 per darvi il buongiorno e per raccontarvi un po' quello che succederà ed è successo nella nostra città, città di Milano, città metropolitana, la famosa ex provincia che alla fine mi ha anche metto il nome ma è rimasto quello, anzi forse l'hanno anche un po' peggiorata, ahimè. Povera città metropolitana, perché Milano è una grande Milano, oltre 3 milioni di abitanti sparsi in 136 comuni insieme a quello di Milano e tutte le mattine ascoltano, tutti e 3 milioni ascoltano Good Morning Milano. Ebbene sì, lo sapete, dato certificato da nessuno, soprattutto non ci tenevo a dire questa cosa, ma ci tengo anche a dire che al 331 78 53 555 potete scrivermi se trovate la linea, perché siete in 3 milioni che tutte le mattine dicono, non è vero. Però vabbè, mi piace l'idea che siamo il morning show più ascoltato di tutta la provincia di Milano. Comunque, noi adesso si inizia, iniziamo con un po' di musica, iniziamo con le notizie, tanti 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 ospiti quest'oggi, collegamenti, telefonate, insomma un po' di tutto, spettacolo, fotografia, interessanti mostre, tutto questo qua a Good Morning Milano. Sinceramente, analisa alle 7 e 10, Crystal Radio, Good Morning Milano, io devo sempre darvi le coordinate prima che, insomma così, nella nebbia e nello smog di questa città magari vi siete persi, non sapete dove siete, bene, siete qui con noi tutte le mattine dalle 7 alle 9 su Crystal Radio 96.2 FM, DAB+, app per iOS e Android. No, sì, mi spiace, se avete il Nokia Phone, se avete Windows Phone, forse non funziona neanche più, può funzionare un Windows Phone oggi nel 2024. No, se avete il 3310 invece, molto probabilmente funziona, ma non potete ascoltarci, a meno che non abbiate il vecchio telefonino, il vecchio Nokia che aveva anche il sintonizzatore FM dentro, con quello ci potete ascoltare effettivamente. Ma per tutto quanto invece c'è il sito internet, anche crystalradio.it, oppure da ieri, lo sapete, ieri era la puntata di Dalmata, oggi, è la 101. Va beh, niente, ho riso solo io questa battuta. Comunque, abbiamo anche il sito internet nostro, goodmorning.milano.it. Potete ascoltarci in diretta, c'è il pulsantino che vi collega direttamente con Crystal Radio, e poi c'è tutto anche quello che potete riascoltare, ovviamente, come sempre, sui nostri sito, sui nostri podcast, su Spotify, su Apple Music, su Google Podcast. Cos'altro volete? Veniamo a farvela sotto casa, se volete. Se ci chiamate, ci date l'indirizzo, veniamo sotto casa vostra e facciamo anche la trasmissione lì, va bene? Quindi noi ci siamo sempre per voi, ma soprattutto ho notato, e grazie mille davvero a tutti, che siete voi, ci siete sempre per noi. Oggi è il 20 febbraio, e cosa è successo nel mondo il 20 febbraio? Vabbè, allora, nel 1872, pensate, è stato inaugurato il Metropolitan Museum of Art di New York, il MoMA. Bene, basta, finito qua, nel senso, vi do questa notizia, segnatevela oggi al bar con gli amici, se volete fare un figurone, vendetevela di te. Ma sai che oggi è stato inaugurato il Metropolitan Museum of Art di New York? Lo sapevi? No, eh, io sì, vedi. Ma soprattutto, cosa è successo? Chi è nato oggi? Beh, deve essere una giornata dove nascono gli artisti, perché nel 1988 nasce Rihanna, 36 anni fa, ebbene sì, è nata Rihanna. E nel 1967, invece, è nato Carcobain, il leader dei Nirvana, insomma, deve essere una giornata, quasi il 20 febbraio, che dà una marcia in più, evidentemente. Oggi è anche il compleanno, invece, se parliamo di gente sportiva, di Ciro Immobile, ed è stato, ed è nato oggi il compianto, appunto, Sinisa Mijajlovic, che, appunto, ricordiamo, grandissimo giocatore che ha militato tantissimo nel nostro campionato e anche nel, ha stato allenatore, poi, del, del Bologna. Un giocatore serbo, appunto, che ha fatto grandissime cose nel nostro campionato. Abbiamo detto, comunque, che, insomma, quello che fate tutti i giorni è ascoltarci dalla nostra città, città che sappiamo avere tantissimi, tantissimi problemi con l'inquinamento in questi giorni. Anzi, grazie ad Alberto, che ci scrive un messaggio dalla terza città con il livello di inquinamento più alto del mondo, un saluto a tutti quelli in ascolto. Ecco, è vero, è bene sì, è bene sì, ma dopo leggiamo bene, perché sia Repubblica e Corriere ne parlano bene e ci sono anche un po' di polemiche intorno a questi dati. Il Senaco Sala dice, non ci sto, questi dati non sono proprio completamente reali. Sta di fatto che l'inquinamento, però, c'è, a prescindere da che numero gli dici, perché, comunque, lo si vede ormai anche quasi ad occhio. Il motivo, sicuramente, sono anche le automobili che tutti i giorni solcano le nostre città. Per sapere, in questo momento, com'è la situazione del traffico, andiamo ad ascoltare Luce Verde. Ed ero in Nirvana con Smells Like Teen Spirit, perché oggi, appunto, ricorrerebbe il compleanno di Carcobain, 57 anni fa. Pensate, ci ha lasciato veramente, veramente troppo, troppo, troppo presto. E allora così l'abbiamo voluto ricordare con un pezzo iconico dei Nirvana. Allora, parlavamo, e anche Alberto ce lo ricordava, nel messaggio di poco fa al 33178535555, che, vi vado a rileggere, dalla terza città con livello di inquinamento più alto del mondo, un saluto a tutti quelli in ascolto. E, caro Alberto, non è che ha esagerato, non è che ha scritto una cosa sbagliata, perché è così. Quindi, leggiamo da Repubblica, emergenza smog in Lombardia, tornano gli stop alle auto. Milano è come Deli. Nuova Deli, proprio quella. Ma il sindaco Sala si ribella, perché? Il sindaco contro gli svizzeri del IQ Air. IQ Air è un sito, tra l'altro, utilizzato da noi di Milano News da sempre, che dà i livelli di inquinamento in tempo reale sulle città, facendo una media delle colonnine e utilizzando un IQ, un indice di qualità dell'aria, creato e inventato appunto da questa società svizzera. dice, non sono rilevamenti seri, così dice. E l'ARPA rivela, i limiti sono raddoppiati. E a Bologna, non si capisce perché è scritto nello stesso titolo, va bene, ogni tanto anche qui scrivono cose, i titoli scrivono frasi così, giusto per mettere e riempire i spazi. E a Bologna si dice alla gente, soprattutto i runner, restate a casa. Ricordate, rimanete a casa, era per un altro tipo di virus che girava nell'aria, non era l'inquinamento. Sta di fatto che Milano, per un giorno, finisce sul podio delle città peggiori del mondo, precedute solo da realtà come Cengu in Cina e da Dhaka in Bangladesh e superando perfino, pensate che bel primato che abbiamo, nuova Delhi. Il rilevamento della società svizzera IQ Air, che monitora in tempo reale i livelli di inquinamento e rischi per la salute, ha scatenato però le ire del sindaco Beppe Sala e le polemiche feroci degli ambientalisti e non solo. Allora, io capisco che non è bello vedere Milano in quella roba lì, magari sono dati che non tengono conto di qualcosa, però non ne tengono conto a Milano come a Dhaka e come a Delhi. Quindi se sono sbagliati a Milano, sono sbagliati anche a Delhi? È questo che io non capisco, la polemica. Sono dati magari che pompano, va bene, ma pompano sia qua che là, ci sono rilevati in una stessa identica maniera, così almeno mi auguro, soprattutto poi adesso non vorrei dire ma sono svizzeri, cioè adesso stiamo qua a fare pulce svizzeri, eh? Siamo qua a fare pulce svizzeri quando noi abbiamo i 3 di 3 notte che non arriva in orario? Eh, 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 attenzione. Comunque, sempre da Repubblica leggiamo che punto PM10 alle stelle e scattano quindi le prime misure anti-smog in 9 province lombarde su 12, eh, esclusi al momento solo Lecco, Sondro e Varese, quindi stop ai diesel fino a Euro 4, compresi i mezzi trattati di Movin, quella roba che, la scatoletta nera che avete per poter entrare in area B così, niente, non vale niente questi giorni, eh, stop anche ai fuochi all'aperto, come se adesso noi ci mettessimo a fare falò tutti i giorni, cioè a Sant'Antonio non farli, non ce l'avete vatti fa, non è che adesso andiamo a andare tutti i giorni a fare falò, e limiti di 19 gradi per i riscaldamenti, anche qua, lascia un po' il tempo che trova, perché come fate in condomini dove hanno ad andare a decine, cioè è impossibile, è impossibile, queste sono soprattutto le norme, quindi prendiamocela con gli svizzeri che fanno dei rilevamenti che non ci sembrano giusti o che dicono che siamo tanto inquinati, no? Prendiamocela con loro più che prendercela con direttamente noi stessi che inquiniamo la nostra città e poi ci lamentiamo che non possiamo uscire e respirare l'aria, vabbè. Comunque svegliatemi, è prima di andarvene via, eh. Ah no, sono di Wem, wake me up. D'Argent Amico, onda alta da Sanremo, uno secondo me dei vincitori immorali di questa edizione, lui e Gali sicuramente fanno parlare tanto e faranno ancora parlare tanto con la loro canzone e la cosa bella è che non si parla però della canzone stessa ma del tema e dei messaggi che mandano questi artisti che giustamente fanno il loro mestiere di artisti, che non è solo quello di cantare, noi abbiamo questa idea, no? Che è solo quello di cantare anzi, spesso volentieri, poi diciamo beh ma vedi che non ci sono più gli artisti una volta eh no no, vedi eh quando c'era De Andrè, quando c'erano quelli là, no? Adesso invece è solo che cantano, solo cantano, fanno niente, non hanno spessore. Poi quando per una volta vanno su un palco e dicono una cosa intelligente, dicono stop al genocidio, dicono di guardare i gommoni che affondano il Mediterraneo, no. No, scusate, voi siete cantanti, fate solo quello che potete fare, cioè cantare. Eh no signori, allora se vogliamo che ci sia cultura, anche cantare, anche fare politica, che vuol dire non partitica, ma vuol dire fare capire alla gente come gira il mondo e cercare di aprire gli occhi magari a sempre più persone su dei temi che sono davvero complicati. I temi complicati che poi si vanno anche a mischiare perché da Repubblica leggiamo Maxi corteo a Milano per la Palestina e sciopero generale. Il sindacalismo di base torna in piazza. Una due giorni di mobilitazione politica lanciata dai Sikobas a sostegno del popolo palestinese. Una manifestazione nazionale a Milano in programma per il 24 febbraio, preceduta il giorno prima da uno sciopero generale. Allora io capisco che adesso qui si spacca tutto di nuovo, perché anche chi magari è pro palestina, chi è contro il genocidio, che non vuol dire essere contro israele, ricordiamo sempre questa cosa qui, cioè voler salvare dei bambini in Palestina non vuol dire ammazzare della gente, degli ebrei in Israele, cioè sono due cose completamente diverse, ricordiamoci sempre questo. Anche chi appunto è magari favorevole alla causa si trova un po' spiazzato, perché dice ma come adesso il 23 c'è lo sciopero dei mezzi? E potrebbe esserci, nel senso che hanno chiamato lo sciopero per 24 ore. Ripercussioni sulla regolarità delle corse dei treni regionali, quali gestiti a Trenord, probabilmente in Lombardia. Al momento non si sa ancora nulla a riguardo di ATM, perché appunto nessuna conseguenza invece sui mezzi pubblici di Milano, Outbus, Trame e Metropolitane, venerdì 23 febbraio viaggeranno regolarmente. ATM infatti ha spiegato che dai sindacati interni non è arrivata alcuna comunicazione. Sta di fatto che saranno due giorni complicati, soprattutto perché appunto il 24, sabato 24, ci sarà questo grandissimo corteo per la Palestina, da piazzare Loreto a Duomo a partire dalle 14.30, insomma un presidio e poi una manifestazione che sicuramente potrebbe destare problemi all'interno della città. Anche qui cerchiamo di rimanere però un po' più lucidi, almeno noi, magari non quelli... Insomma gli estremismi ci sono da tutte le parti, cerchiamo noi gente normale, che possiamo essere la salvezza di questo mondo, essere un po' lucidi. C'era stata una famosa, no, la rivoluzione della gente per bene, ve la ricordate? Ecco quella roba lì, cioè noi gente per bene, nel senso gente pensante, cerchiamo di rimanere lucidi di fronte a queste situazioni, così che si possa capire meglio e magari aprire gli occhi a più persone possibili. Andiamo avanti con la musica, torniamo ancora nel mondo di Sanremo, però vedete come si entra e si esce, questo è il nostro mondo, dal serio al faceto, dal sacro al profano, passiamo dai Diamanti Grezzi, Diamanti Grezzi, scusate, di Clara. E questa è Clara Diamanti Grezzi, dalla redazione si è alzato un sottovalutata, nel senso che dicono che a Sanremo è stata sottovalutata, Clara, anche secondo me, devo dire la verità, ricordiamo altrettutto che è stata la prima cantante della prima serata, quindi una ragazza così giovane ha avuto questo onere e onore e l'ha gestito perfettamente, secondo me, davvero, davvero molto brava, sottovalutata, forse l'effetto mare fuori su di lei non ha, sortito così come invece su altre canzoni, l'effetto Napoli, però veramente, veramente molto, molto, molto brava. Parliamo di ragazze giovani, perché su Corriere della Sera Milano esce un articolo molto interessante che nasce da una ricerca. Il titolo dice, Milano, due ragazze su dieci non escono di casa con il buio. La mappa dell'insicurezza percepita quartiere per quartiere. Molto bello l'utilizzo della parola percepita, ma attenzione a usarla correttamente, e in questo caso è corretta, cioè nel senso che effettivamente è un problema, cosa da sicurezza, che viene percepito in maniera magari sbagliata dalle persone, da noi altri che giriamo questa città, ma il problema rimane comunque, anzi, forse ancora peggio, perché se la percezione è peggiore della realtà, c'è un grosso problema. La ricerca è stata fatta in base alle segnalazioni sulla app Where dalle donne Under 35. Fanno paura cosa? Le zone poco illuminate e la stazione centrale. Più rassicuranti invece sono le piazzette vissute dai residenti. E c'è una mappa anche, per capire un po', insomma, 1800 interviste su oltre 70.000 segnalazioni arrivate sull'app Where, se volete cercatela e scaricatela, è W-H-E-R, cioè come dove ma senza lei finale, perché gioca su Her di donna, del femminile, diciamo. Queste 1800 interviste su 70.000 segnalazioni considerano un campione costituito per il 92% da giovani donne tra i 18 e i 35 anni. E ne emerge che cosa? Allora, ad esempio, che in quartieri come Turro, Casoretto, Lampugnano, San Siro, Grattosoglio, la differenza la fanno soprattutto quegli spazi aggregativi giovanili presidiati di sera. Ad esempio, che a Quartoggiaro al Gallaratese, una strada su tre risulta avere illuminazione fioca oppure poco rassicurante, che sembra una cosa che vuol dire, poco rassicurante l'illuminazione, invece è fondamentale. Se noi vogliamo che i cittadini girino sereni nelle proprie vie, che vivano la città e soprattutto che le ragazze possano uscire di casa senza grossi problemi, bisogna anche avere un'illuminazione rassicurante, cioè fare in modo che la via, che molto probabilmente non è minimamente pericolosa, non lo sembri neanche, perché quello è fondamentale. E poi cosa ne emerge ancora? Ad esempio, che allo Stadera un quarto delle aree migliorrebbe significativamente con una maggiore frequentazione e capillarità nottuna dei mezzi pubblici di superficie. Quindi, se ci fossero più mezzi pubblici e più, cioè se il TPL ci fosse anche di notte, ci sarebbe più sicurezza. Insomma, molto interessante, datevi un'occhiata a questo articolo sul Corriere della Sena Milano. Tutto nasce da questa associazione che si chiama Sex and the City APS. C'è anche una delle ricercatrici che è Florenzia Andreola che spiega ed è fondatrice appunto dell'associazione. Spiega un po' come nasce l'idea e come adesso si potrebbe evolvere dalla ricerca appunto fatta. Si potrebbe evolvere poi con questi risultati in mano. Un esempio virtuoso è l'esempio qua di Piazzale del governo provvisorio non lontano dal Trotter che è trasformato in un luogo dove si può sostare grazie ai Deors e alla particolare pavimentazione che inibisce il parcheggio. Ad esempio le auto sono un ostacolo alla visibilità e un potenziale nascondiglio per molte e quindi insomma quello può essere un esempio virtuoso. Cerchiamo magari di esportarlo in tutto il resto della città. Quindi l'app si chiama Wear W-H-E-R Scaricatela e grazie mille per questa bellissima iniziativa. Ed eccoci qua di nuovo in diretta Crystal Radio Good Morning Milano e abbiamo una graditissima ospite in collegamento con noi buongiorno Deborah Villa buongiorno Ciao ragazzi buongiorno a voi grazie mille di essere collegata con noi grazie di aver accettato il nostro invito Deborah Villa grazie a voi perché ti colleghiamo oltre a essere grandi fan di un'attrice così brava come te Deborah siamo anche qui a raccontare invece che venerdì andrai in scena a Milano con uno spettacolo dal titolo abbastanza originale perché è Tilt esaurimento globale cioè c'è il letto nella mente a tutti quanti allora ragazzi ma il comune è mezzo gaudio io ho scoperto di essere esaurita ma ho anche scoperto di non essere l'unica quindi venite che condividiamo appunto questa analisi di gruppo che ci farai come funziona allora funziona così che allora proprio tecnicamente inizio subito con una bella improvvisazione col pubblico per capire a che livello siamo esauriti e che cosa ci esaurisce lì già ognuno dice la sua insomma di tutto quello che gli può capitare nella vita dopodiché facciamo un bel viaggio nel mio cervello quindi durerà pochissimo perché ci sia tanto da vedere allacciamo le cinture di sicurezza in quel caso esatto esatto e cerchiamo di risalire dall'origine del primo esaurito della storia dell'umanità ad oggi perché ci esauriamo perché abbiamo costruito una società diciamo così basata sull'esaurimento distorta sì sì perché è proprio distorta ma anche la storia non è vero quello che ci insegnano a scuola cioè anche la geografia intanto voglio dire guarda la prima roba che ti dico è chiamiamo terra un pianeta che è fatto per il 90% d'acqua questo perché perché la nostra è la nostra soggettiva visione nonché utilizzo cioè ce la viviamo in maniera gotica potevamo comunque chiamarlo acqua ed essere animali terrestri invece no riduciamo tutto a nostra misura il problema è che siamo piccoli rispetto all'universo quindi comprimiamo e rimpiccioliamo tutto e perciò dopodiché dobbiamo far rientrare tutte le cose che non riusciamo a capire in questo scatolino minuscolo che è il nostro ego e perciò capisci che non se ne esce l'operazione lì non è facile non è facile sicuramente come nasce e insieme a chi hai scritto questo spettacolo come nasce appunto l'idea di andare ad analizzare gli esaurimenti globali di tutti noi allora l'esaurimento nasce perché vabbè diciamo che sono sempre stata abbastanza borderline ma mi sono resa conto che siamo tutti così dopo la pandemia dopo il secondo lockdown sono andata un po' giù di testa e a ho dovuto ricapire un po' che cosa significa per me salire sul palco e far ridere la gente ho scoperto che la risata ha anche proprietà curative e taumaturgiche questo è scientificamente comprovato a livello medico e già mi sono rincuorata perché mi sentivo una cretina andare a fare ridere la gente con quello che era appena successo dopodiché però ho scoperto insomma un po' una crisi un po' più profonda ho detto ma qui non stiamo bene ragazzi non stiamo benissimo quindi la risata ci cura però facciamo una risata un po' più diciamo riflessiva ecco come è che si dice fa ridere ma anche pensare giusto con la cosa lì no? no certo certo assolutamente e allora poi insomma Carlo Gabardini è venuto a vedere un mio spettacolo in cui ho fatto la regia e ha detto ah che bello che bello ci siamo ritrovati insomma mi ha detto mi piacerebbe scrivere per te allora insomma ci siamo messi lì a quattro mani abbiamo scritto questo spettacolo insomma devo dire che il risultato è buono con Carlo Gabardini è la prima volta che appunto fate uno spettacolo insieme come autori ma in realtà avete già avuto dei trascorsi da attori no? ricordiamo esatto bravissimo abbiamo fatto una tournée con Paolo Rossi e poi Camera Cafè insomma lui è Olmo per chi non se lo ricorda come perché io sono la Patti e lui è Olmo allora per l'altra domanda la devo fare ma come si fa a uscire da quel personaggio lì? quanti ancora ti vedono ciao Patti ma chi ti dice che sono uscita? ok chi ti dice che ci sono mai entrata io sono così capito sono abbastanza Patti l'hanno chiamata Patti per non chiamarla Deborah solo per quello esatto è giusto proprio per far finta di essere qualcosa di diverso ok ma allora ricordiamo bene dove e quando possiamo venire a vedere appunto questo tilt esaurimento goale a viverlo anzi mi dà quanto capito perché non lo possiamo solo vedere sì sì esatto esatto è molto partecipato allora 23, 24 e 25 febbraio sono a Lirico poi l'8 marzo sarò a Legnano ma comunque se volete adesso ragazzi posso dire questa cosa mi la sto tirando un sacco ho il link in bio ho il link in bio io ci ho messo anni a capire che caglio fosse questo link in bio quindi se uno vuole vedere le date va lì cancello mano a mano quelle che faccio però tutte quelle nuove sono ancora là attenzione che il link in bio non è biodegradabile e non è vegetale non è così no non è quella roba lì ecco ricordiamo per chi ci ascolta bene ok però insomma è importante appunto fatevi un giro allora a questo punto sul link di Deborah Villa e cercate il link in bio per sapere tutte le date del suo spettacolo Deborah noi vi aspettiamo qua in studio lo sai prima dell'8 marzo vogliamo vederti qui in studio va bene promesso promesso arrivo grazie mille allora Deborah grazie a voi ciao ragazzi come si dice mucio merda come si dice in questi casi si si va bene va bene ok perfetto grazie mille Deborah Villa noi ricordiamo Tilt Tilt esaurimento globale dal 23 al 25 febbraio al lirico Giorgio Gaber di Milano grazie mille ciao Umberto Tozzi con Gloria e la Crystal History delle otto sempre qui in diretta sono le otto e zero otto Good Morning Milano in diretta su Crystal Radio FM96.2 da Plus App iOS Android e sito internet e allora adesso andiamo avanti invece a parlare un po' di quello che succede nella nostra città e voi mi chiedereste ma che cosa hanno in comune Alessandra Custre Manariete Lodi Emma Bonino Flavia Pennetta Giovanna Botteri Laria Cucchi Lara Boldrini Miliana Segre Michela Murgia cosa hanno in comune sono le protagoniste loro e tante altre di una mostra chiamata Straordinarie e per capirne meglio e sapere di cosa stiamo parlando abbiamo in collegamento con noi Elena Lattuada buongiorno buongiorno a voi allora Elena Lattuada delegata del sindaco alle pari opportunità che ci racconterà un attimino che cos'è questa straordinarie giusto questo è il nome di questa mostra che però rientra in un progetto molto molto più ampio giusto Elena? Assolutamente sì partiamo dalla mostra ovviamente che in questo momento è visitabile in forma gratuita per tutte le cittadine e i cittadini milanesi e ovviamente non solo è una mostra di cui una piccola parte è stata già vista al Maxi a Roma e che invece è in fabbrica del vapore e si estende in tutta la sua straordinarietà per l'appunto il titolo è straordinarie cioè parla di donne straordinarie ognuno nel loro campo ognuna per quello che rappresenta e per quello che è che viene messa in mostra con una foto molto bella in bianco e nero proprio anche questo al suo al suo dettaglio e accanto alla mostra che ovviamente è mostra immagini c'è anche quello che queste donne straordinarie hanno voluto raccontare di sé quindi è una mostra in qualche misura un po' interattiva cioè è possibile ascoltare dei podcast che sono stati registrati in occasione diciamo della foto dell'evento della foto e che racconta di queste donne quindi è un percorso tra mestieri capacità visibilità appunto alcuni nomi sono stati ricordati ma ci sono anche donne meno famose che però hanno una storia da raccontare sì perché c'è davvero davvero tutto nel senso c'è un mondo tanti mondi anzi raccontati all'interno di questa di questa mostra come dicevi appunto tu Elena ci sono nomi più famosi altri meno famosi ma tutte nel loro sono straordinarie appunto esattamente questo è un po' il senso e aggiungerei sono donne contemporanee cioè di quest'epoca e però mi piace anche ricordare che questa città sta facendo un lavoro anche di recupero delle storie non contemporanee delle donne invisibili cioè delle donne che hanno fatto grande questa città e che magari sono assolutamente poco conosciute e se le straordinarie di oggi ci sono è anche frutto della storia precedente di altre donne straordinarie poco meno meno conosciute di quanto non possano essere quelle quelle di oggi questa è una mostra proposta e curata da Terre des Hommes che è una onlus che si occupa in modo particolare di bambini e di bambine ma che ha voluto insieme a degli sponsor ovviamente curare questa mostra e portare questa mostra nella nostra città per dare spazio e modo a tutti di mettere in evidenza appunto non solo delle immagini assolutamente meravigliose ma proprio anche delle storie e da questa idea di straordinaria su cui stiamo lavorando da alcuni mesi è nata anche l'idea che Fabbrica del Vapore il luogo dove si tiene diventi un luogo importante per Milano per raccontare la storia di donne più o meno note più o meno recenti con un'idea che Milano Città delle Donne per tutto il 2024 abbia Fabbrica del Vapore come un luogo in cui costruire appunto occasioni ed eventi che cos'è questo progetto Milano Città delle Donne perché è un progetto che è già in essere sta andando e appunto avete già l'idea di fare tutto un 2024 poi no? Sì Milano Città delle Donne è diciamo la pagina istituzionale del comune di Milano che parla di tutto quello che accade in città rispetto alle donne e al dibattito alla discussione insomma sul tema sul tema del genere abbiamo deciso di usare questo 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 slogan insomma questo logo per caratterizzare appunto Fabbrica del Vapore e insieme a chi gestisce Fabbrica del Vapore l'idea è quella di costruire un palinsesto che è in itinere alcune cose sono già definite ad esempio nel mese di giugno ci sarà un'altra mostra fotografica che si chiama Punto G anche questa dovrai venire a contarcela ovviamente anche quella anche di questa abbiamo visto una piccola pillola l'anno scorso alla Fornace altro luogo come dire culturale di questa città lì sarà sviluppata invece in modo significativo questo è un altro evento già organizzato ma ce ne saranno tanti altri ma vogliamo anche che Milano città delle donne sia come dire riconoscibile come un luogo in cui confrontare le esperienze e quindi stiamo pensando appunto di inserire in quel grande luogo che è Fabbrica del Vapore anche eventi presentazione di libri occasioni di discussione cioè di renderlo un luogo vivo è un esperimento che facciamo nel 2024 se funziona non è detto che si possa anche continuare però appunto con l'idea di associare un po' attività culturali occasioni di incontro e di rendere sempre più viva e partecipata alla città tu sei la delegata sindaco alle pari opportunità che cosa fa questa delegata sindaco qual è il tuo compito tutti i giorni quando appunto vai a lavorare diciamo che cosa è che fai qual è l'obiettivo appunto che si poi avete come come giunta come sindaco come comune di Milano allora il comune di Milano diciamo da ormai tre mandati cioè da Pisafia in poi ha deciso di non avere un assessore alle pari opportunità o al genere cosa che in altre città invece accade ma di avere una funzione che è appunto la mia quella che io in questo momento rivesto e che altre prima di me hanno rivestito nel corso del tempo con l'idea che le pari opportunità debbano in qualche misura determinare le politiche di tutti gli assessori e di tutti gli assessorati cioè quindi la delega del sindaco è in qualche modo un modo per interloquire interagire con tutte le politiche del comune e provare diciamo con successo dipenderà non solo dalla capacità di chi ci prova ma anche ovviamente dall'attenzione della giunta a diciamo costruire un coordinamento continuo e costante e a una lettura di genere di tutte le politiche che vengono fatte quindi un'idea di una sorta di delega trasversale ok su cui in qualche modo si tirerà a un certo punto un bilancio per capire se effettivamente una modalità di lavoro di questo genere funziona o meno io posso dire che la collaborazione con tutti gli assessori e le assessore esiste e che le sensibilità in questa giunta esistono vorrei ricordare che questa è una giunta formata da 50 e 50 50 donne 50 diciamo 50% donne 50% uomini abbiamo una vice sindaca quindi è chiaro che l'attenzione al genere è un'attenzione forte in questa città del resto non potrebbe essere che così in una città in cui diciamo i dati ci dicono che le donne sono importanti la politica non può non tenerne conto poi ci sono soprattutto dei dati che non è solo simbolo perché spesso si dice no ma è un simbolo non è solo quello e ad esempio a me piace molto un'operazione che state facendo sulla toponomastica della città che può sembrare una cosa stupida di vabbè ma chi se ne frega del nome della via ma invece è fondamentale perché i nomi delle vie dedicate a donne infinitesimamente più minore rispetto a quelle dedicate a degli uomini e voi su quello state facendo so un'operazione anche per cercare uno di raccontare chi sono queste donne a cui ci sono vie dedicate e anche poi a cercare di portare il tema e dire beh quando però si fa una nuova intitolazione intitoliamola magari a una donna perché è importante non è solo simbolo questo beh è importante perché appunto è un po' la cosa che dicevo all'inizio cioè dedicare una via significa anche riportare una storia significa anche riportare all'attenzione diciamo ovviamente di chi vuole essere attento anche a questi segni ma dare anche un riconoscimento magari appunto a una donna che è sconosciuta e che pure nella sua capacità nel suo fare nel suo essere ha segnato la storia non solo la sua storia ma anche la sua contemporaneità e quindi questo percorso è proprio un'idea che se oggi questa città è appunto una città fatta di uomini e di donne lo si deve anche a quelle donne sconosciute abbiamo costruito una sorta di mappa della città non solo con le vie vorremmo aumentare i monumenti dedicati alle donne in questo momento diciamo i più importanti sono due uno a Cristina di Belgioioso l'altro a Margherita H ma come sempre il problema dei monumenti sono i costi che questo presuppone quindi più facile diciamo una targa di intitolazione alla via e però questo è un come dire un lavoro che con l'assessore alla cultura stiamo facendo con grande determinazione e convinzione consapevoli che recuperare il gap tra uomini e donne è un lavoro di lunga lena cioè non basterà questa consigliatura per risolvere il problema perché se oggi siamo a 80-20 è evidente che il gap non lo si risolve velocemente però per esempio ormai da diversi anni ad ogni via intitolata o giardino o piazza intitolata un uomo ce n'è una che viene intitolata subito dopo subito prima ad una donna e questo diciamo porta progressivamente ad un riequilibrio poi si potrebbe anche fare qualche diciamo sterzata ulteriore ma insomma ci si sta lavorando un lavoro in corso un bel quartiere solo di vie dedicate alle donne non sarebbe male potrebbe pensare a un intero villaggio anche potrebbe pensare a qualcosa del genere il nodo è che però come sempre le vie già intestate non si cambia no non lo fate che poi se no i cittadini vi abbassano esattamente questo sarebbe un danno e quindi siccome questa città è vero che si sviluppa ma è altrettanto vero che insomma lo spazio è quello che è esatto e quindi rivoluzionare da questo punto di vista è difficile stiamo cercando di fare anche un'operazione che laddove è possibile collocare diciamo l'intestazione di una via di una piazza di un giardino nei luoghi dove per esempio le donne hanno vissuto adesso vorrei ricordare i giardini Melato che sono esattamente sotto la casa di Mariangela Melato in zona Brera questo per fare un esempio quindi anche questa politica dei giardini delle passeggiate che è proprio perché per esempio in centro di vie nuove non ce ne sono più e il rischio è di delegare solo nelle zone più diciamo limitrofe periferiche l'intitolazione alle donne allora abbiamo compensato con l'idea che anche appunto dei giardini dei luoghi che stanno nel centro della città possono essere dedicate a donne poi c'è sempre il vincolo ovviamente che si possono intestare vie giardini solo dopo dieci anni dalla morte e questo come dire di donne ce ne sono tante infatti 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 allora le ricorderemo ancora con Telen sicuramente anche nei prossimi collegamenti ricordiamo invece a tutti quanti quando e dove la mostra straordinaria in scena appunto in questo momento la mostra è già visitabile è stata inaugurata il 14 di febbraio e dura fino al 17 di marzo con un orario assolutamente allungato è possibile visitarla fino alle 8 di sera e quindi l'invito alle donne e agli uomini milanesi e non solo è quella di andare a visitarla di prendersi un'ora del proprio tempo per non solo osservare i volti e leggere le biografie ma anche per ascoltare le storie di queste donne straordinarie e allora ti ringrazio tantissimo davvero per questo tuo collegamento e per tutto quello che state facendo e con la collaborazione con Terre des Hommes proprio per questa mostra straordinaria dal 14 febbraio al 17 marzo presso la fabbrica del Vapore 110 storie da andare a scoprire 110 storie di donne straordinarie grazie mille a Elena Natuada delegata del sindaco alle pari opportunità buona giornata buona giornata a voi grazie mille continuiamo con la musica andiamo avanti ovviamente non potremmo che mettere una donna dopo questo bellissimo discorso che abbiamo fatto e quindi Rose Villain con Click Boom la voce di Bonovox gli U2 con One alle 8 e 32 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano a tutti ancora 331-7853-555 il nostro numero di whatsapp seconda e ultima mezz'ora di trasmissione che apriamo parlando di una mostra di una mostra che c'è a Milano in questo momento dal titolo molto esplicito facile complottismo fake news e altre trappole mentali è al museo della filosofia e non è passato inosservato perché anche i complottisti i famosi Novaks si sono fatti sentire perché da Repubblica Milano noleggiamo l'assedio dei complottisti alla mostra sulle fake news organizzata alla statale ma per capire bene di questa mostra e capire se anzi i complottisti sono ancora lì campeggiati fuori lo chiediamo ad Anna Ichino buongiorno buongiorno professoressa buongiorno a tutti e allora quanta gente c'è tutte le mattine a dare il benvenuto davanti alla mostra cosa sta succedendo in realtà i complottisti sono una manciata non sono così tanti però sono molto affezionati vi portano almeno cornet brioche vi portano almeno cappuccino o neanche quello magari no in realtà non sono così amichevoli però ormai quasi stiamo facendo amicizia e attenzione perché nelle brioche chissà cosa ci mettono dentro e quindi da buon complottista uno non le prende ma no parliamo dica 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 chino no no dicevo metto di microchip infatti infatti noi ridiamo e scherziamo ma qui il tema è veramente serio tanto che appunto voi ci avete fatto una mostra complottismo fake news e altre trappole mentali di cosa parla questa interessante mostra al museo della filosofia in statale fino al 22 febbraio allora la mostra parla appunto come dice il titolo di complottismo e fake news per cercare di sono parole che sono sulla bocca di tutti ma appunto cerchiamo di capirle meglio essendo una mostra che nasce nell'ambito del progetto del museo della filosofia cerca di appunto affrontare alcune delle domande anche filosofiche che questi fenomeni sollevano ha una prima sala dedicata a problemi di natura concettuale per definire che cos'è una fake news che cos'è una teoria del complotto e la risulta appunto queste definizioni non sono ovvie perché non è che ogni volta che parliamo di complotti siamo dei complottisti per cui capire perché appunto talvolta è legittimo parlare di complotti ma in alcuni casi si scade nel crinale della disinformazione ma questa è la prima sala quindi a carattere un po' introduttivo ma la seconda sala della mostra che consta di due sale che è un po' il clou del percorso affronta la domanda centrale del perché ci si crede quindi il tema centrale della mostra è quello di quali sono i meccanismi cognitivi sociali e culturali che portano appunto fake news e teorie del complotto ad avere il successo che hanno quindi sostanzialmente cosa succede nella mente del complottista perché sto notando che in realtà ci si casca facilmente cioè anche persone che io reputavo molto intelligenti anzi che reputo ancora molto intelligenti però ogni tanto poi ci cascano dentro com'è possibile? Certo e appunto uno dei messaggi centrali della mostra è quello per cui tutti ci caschiamo facilmente cioè non è che c'è un noi e un loro non è che c'è la mente complottista e la mente non complottista ci sono appunto una serie di trappole mentali che menzioniamo nel titolo della mostra che fanno parte dei meccanismi cognitivi universali che tutti abbiamo cioè gli errori di ragionamento le distorsioni cognitive le fallacce argomentative sono appunto universali non sono proprie tutti quanti siamo meno razionali di quanto ci piacerebbe pensare e quindi in questo senso il viaggio nella mente del complottista che la mostra propone è un po' un viaggio nella mente di tutti noi poi certo il complottismo ha degli specifici e ci sono delle condizioni appunto che fanno sì che appunto in alcune circostanze prendano piede le teorie del complotto però si tratta appunto di uno studio che è un po' una lente sulla psicologia umana in generale ecco se vogliamo individuare lo specifico del perché allora se tutti siamo meno razionali di quel che ci piace pensare alcuni diventano complottisti la parola chiave è sfiducia è una parola che ritorna moltissimo nella mostra si dice spesso si pensa spesso che la mente complottista sia una mente credulone il complottista è rappresentato come colui che crede a tutto in realtà in un certo senso è vero il contrario il complottista è qualcuno che non crede a niente cioè prima ancora che credulone è diffidente è qualcuno che ha perso fiducia in una serie di appunto fonti di sapere che sono quelle nelle quali in realtà sarebbe più razionale aver fiducia ha perso fiducia appunto nella comunità scientifica nelle istituzioni nel in quelle che i filosofi chiamano autorità epistemiche coloro che hanno autorità in un certo campo ha perso fiducia in tutte queste voci e spesso questo bisogna dirlo è importante dirlo anche per delle ragioni più che comprensibili perché ci sono molti casi in cui appunto la comunità scientifica o le autorità le istituzioni non sono in grado di parlare col cittadino non sono in grado di appunto di una comunicazione trasparente inclusiva e non è un caso per questo se il complottismo si diffonde in quelle soprattutto in quelle porzioni di società che a torto o a ragione si sentono perdenti ok negli Stati Uniti degli studi molto significativi mostrano che negli Stati Uniti le teorie del complotto in ambito sanitario per esempio appunto su vaccini e altre cure sono molto diffuse nella comunità afroamericana e sappiamo tutti come funziona il sistema sanitario statunitense che distingue i cittadini di serie A di serie B e di serie C se appartiene a una certa comunità tu alle cure potresti non avere accesso mai ok per cui se in quelle porzioni di società si diffonde sfiducia beh come dargli torto questo lo dico non per dire abbiamo ragione ad aver sfiducia però per dire che questa sfiducia appunto spesso ha delle cause socio-culturali appunto più che comprensibili il problema è che appunto poi la sfiducia crea un vuoto crea un fa terra bruciata e crea un vuoto a livello anche cognitivo cioè ti porta a rifiutare una serie di risposte a delle domande noi abbiamo tante domande sulla realtà e gli esperti ovviamente hanno delle buone risposte ma se nutri sfiducia rifiuti quelle risposte quindi a quel punto hai bisogno di risposte alternative appunto è nel vuoto di risposte che generato dalla sfiducia che poi prendo in piede le fantasie di complotto quindi chi non so capito bene io questa mostra non è che vengo lì e mi dita questo è vero questo è falso questo è vero questo è falso non è questo non è un bufale punto net o cosa del genere ma mi spiegate attenzione puoi armarti diciamo di alcuni skills che ti potranno servire per capire poi in un futuro da solo cosa può essere reale cosa no ma soprattutto aumentare l'attenzione forse è quasi un allenamento quello che mi proponete voi assolutamente è un allenamento al pensiero critico cerchiamo appunto di capire come funzionano per metterci in guardia e metterci in grado di riconoscerle pensiero critico che spesso è usato invece per dire noi che abbiamo pensiero critico siamo quelli che abbiamo smascherato il complotto e tutto uno dei temi che affrontiamo è proprio questo del crinale tra sano scetticismo e sano pensiero critico e appunto creduloneria nelle fantasie complottiste è un confine sottile perché è un confine sottile in cui entra anche l'umiltà di sapere dove devi delegare agli esperti perché certamente va benissimo il pensiero critico usare la propria testa è quello che diciamo sempre ai nostri studenti quindi il pensare con la propria testa è un ottimo motto è un'ottima incitazione però devi farlo essendo consapevole che in alcuni ambiti la tua testa non può arrivarci perché sei in virologia se non hai un dottorato non sei in grado di capire certe cose per cui per fare un esempio chiarissimo tutto questo è all'interno del museo della filosofia che io Echino se lei non ha da andare via la terra ancora un attimino qua ci ascoltiamo una bella canzone e poi parliamo invece di questo museo di che cos'è il museo della filosofia perché è davvero interessante e secondo me dovremmo conoscere un po' di più va bene? Volentieri E allora andiamo con Diodato dal Sanremo appunto appena passato con Ti Muovi e poi torniamo qui che invece non si muove la nostra Anna Ichino per parlare appunto di questa mostra con l'ottismo fake news e altre trappole mentali e soprattutto del museo della filosofia E Diodato Ti Muovi non si è mossa invece la nostra ospite che è ancora collegata qui con noi perché stiamo parlando del museo della filosofia insieme a Danna Ichino e allora professoressa Ichino che cos'è questo museo? Ne vogliamo sapere di più perché posso dire lo conosciamo poco ed è male peccato quasi immortale diciamo veniale sicuramente ma insomma dobbiamo venale ma dobbiamo rimediare subito a questa nostra mancanza Allora spero che ne sentiate parlare sempre di più perché è un progetto che appunto sta crescendo e finalmente sta prendendo le mosse in modo solido Allora l'idea è proprio quella di creare quello che per quanto ne sappiamo è il primo museo della filosofia al mondo quello di cui ci siamo resi conto a un certo punto con i miei colleghi è che al mondo esistono musei di qualsiasi cosa dal arte storia oggetti sesso io ho visto il museo del tombolo incredibilmente per la filosofia che è una disciplina bella e importante almeno secondo noi ovviamente siamo parziali ma per la filosofia non c'era ancora un museo e qualche anno fa abbiamo deciso che era il momento di colmare questa lacuna e dare vita appunto a un museo della filosofia cosa abbiamo in mente con il museo della filosofia il nostro modello diciamo muse ispiratrice sono i musei della scienza quindi un museo non in cui entri e vedi oggetti reliquie del passato la penna di Kant il cuscino di Hume queste cose qui no un museo in cui entri in temi e problemi filosofici attraverso una serie di attività esperimenti giochi e appunto in una forma interattiva e dinamica che ti coinvolga e ti faccia capire i problemi dall'interno questa è un po' l'idea e appunto se avete in mente i musei della scienza questi sono il nostro modello quindi un approccio per temi e problemi non necessariamente storico e molto dinamico ecco attualmente si trova nei chiostri della statale giusto? esatto nel 2019 abbiamo creato le prime due sale di questo museo in queste due aulette nel cortile d'onore della statale che sono le stesse che adesso ospitano questa mostra che idealmente sono le due nuove sale infatti anche sui manifesti le abbiamo chiamate le nuove sale del museo della filosofia lo stiamo costruendo appunto pezzo per pezzo con una serie di mostre temporanee che dovrebbero finalmente nel 2025 quindi nel giro di un annetto circa confluire in una sede permanente a città studi ok quindi queste mostre temporanee diventeranno poi delle permanenti dopo esatto ok questa mostra le prime due sale erano dedicate a problemi filosofici generali quindi cos'è la filosofia quali sono gli strumenti del filozofo oh mamma quella è difficile bisogna partire da lì effettivamente per capire beh sì ovviamente un museo doveva partire dalle basi e però poi questa volta c'è stata poi di mezzo la pandemia che appunto ha un po' bloccato il progetto e come molte altre cose ma adesso si è ripartiti e abbiamo deciso di prendere un tema specifico che appunto è questo di complottismo e fake news che ovviamente non è un classico tema filosofico ma solleva molte domande filosofiche e quindi appunto questa volta abbiamo creato due sale dedicate le chiamiamo alla filosofia della disinformazione ma poi insomma io devo dire che la filosofia è sempre un po' bistrattata è sempre vista un po' da chi non la capisce io in primis lo confesso in maniera un po' così strana in realtà poi le domande ce le si pone le domande filosofiche rientrano in tutto l'abbiamo visto anche adesso col tema dell'intelligenza artificiale quanta filosofia c'è la base di tutto quello poi anche quindi insomma forse anzi dovremmo avvicinarci di più a questo tema e a questa materia beh sì questa è la nostra idea e la speranza è che il museo consenta di farlo a un pubblico ampio appunto tutto quanto anche il discorso che facevo prima sui meccanismi mentali del complottismo eccetera eccetera è tutto veicolato da giochi e attività per cui chiaramente ci sono anche dei pannelli illustrativi in cui leggi e dei video in cui ascolti però abbiamo la sfida è per ogni tema di problema creare dei giochi appunto anche per il discorso sui meccanismi che guidano la mente complottista abbiamo creato un gioco in cui i giocatori sono invitati a giocare a fare i complottisti per capire da dentro i meccanismi coinvolti quindi abbiamo creato questo che chiamiamo kit del complottista in cui diamo delle carte che mettono diciamo dando delle istruzioni per diventare un buon complottista e poi abbiamo creato un finto social media che si chiama Glitter che è un gemello di Twitter in cui i giocatori si sfidano inventando teorie del complotto postandole su questo social media e l'algoritmo di Glitter che abbiamo creato apposta calcola i punti popolarità di ciascun giocatore quanto la tua teoria del complotto piace a quella comunità social e alla fine decreta il complottista chi vince il trofeo complottista questo è solo un esempio ovviamente è un gioco che funziona molto bene che i ragazzi delle scuole ci passano le ore a sfidarsi su Glitter io sto già prendendo la metropolitana per venire lì però a giocare a Glitter ve lo dico devo specificare che ovviamente lo scopo non è creare una nuova schia di complottisti ma il contrario questo è importante perché ogni tanto ci dicono ma voi siete matti voi ci state se ci date il kit del complottista però ovviamente ma no ma il concetto è come quello del vaccino appunto inoculando il complottismo abbatto il complottismo giusto è quella roba lì glielo avete regalato a quelli fuori il kit no loro non ne hanno bisogno sono già hanno già sono già esperti hanno già il master in quello ricordiamo anche gli orari non abbiamo detto gli orari come funziona e soprattutto c'è un'apertura straordinaria anche giusto sì esatto la mostra è aperta ancora questa settimana fino a giovedì purtroppo quindi se volete venire a trovarci avete ancora qualche giorno ma affrettatevi è aperta tutti i giorni ma il mattino è riservato alle scuole mentre il pomeriggio dalle due alle sette e mezzo è aperta ad accesso libero con visite guidate sempre disponibili a cura dei nostri studenti e studentesse e quindi tutti i pomeriggi dalle due alle sette e mezzo e giovedì ventidue dalle due alle ventuno quindi c'è un'apertura serale prolungata ok perfetto allora mi sa che non mancheremo come si dice in questi casi ok comunque questi orari e tutte le informazioni e materiali vari li trovate sul sito museodellafilosofia unimi.it perfetto allora professoresse Chino io la ringrazio tantissimo per questa mostra che avete messo in piedi e grazie anzi proprio per tutto il museo non mancheremo di venire a vederla ci sono ancora tre giorni quindi insomma possiamo veramente tranquillamente andare nei pomeriggi appunto dalle due e mezza fino alle sette dice dalle due fino alle sette è giusto quindi insomma sette e mezzo ah due sette e mezza allora pronto e ma che vada appunto giovedì c'è anche l'apertura solidaria fino alle otto quindi alle nove alle nove ma ho capito tutto complimenti siamo un museo della comprensione per me chiedo scusa Chino va bene ma comunque come diceva appunto la professoressa c'è il sito che quello almeno è facile da comprendere grazie mille professoressa grazie a voi ci vediamo al museo allora senz'altro vi aspettiamo buona giornata a presto andiamo avanti con un po' di musica la preferita della nostra producer viola sono loro i ricchi e poveri con ma non tutta la vita 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di oggi martedì 20 febbraio sempre qui su Christian Radio con Good Morning Milano e domani siamo ancora qui ma prima di essere qua domani oggi dopo di noi non pomeriggio sto dicendo dopo di noi c'è Ambrogio Curti dal 9.05 dopo il giornale radio con senti questa la grande musica raccontata dall'ottima voce e soprattutto sapientemente di Ambrogio Curti e tutto quello che abbiamo fatto questa mattina potete riascoltarlo rivederlo tranquillamente quando volete dove volete grazie al nostro podcast di Good Morning Milano grazie al sito goodmorning.milano.it e anche al Youtube Twitch Facebook tutto ovunque noi torniamo domani ve l'ho detto sempre qui dalle 7 alle 9 su Crystal Radio così da potervi raccontare tutto quello che succede in Milano non solo nella nostra città ma anche nella città metropolitana in tutta la provincia perché tutto questo fa grandissimo la nostra amata Milano e quindi a domani voi oggi mi raccomando affrontate la città come se non ci fosse un domani ma il domani ci sarà comunque e sarà sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano a domani ciao